I sindacati dei trasporti replicano al presidente della tua azienda di trasporto unico abruzzese, Gianfranco Giulianti, in merito al secondo bando destinato agli interinali. Bando che non è mai stato oggetto di accordo, dicono. Non esiste nessun accordo dove noi abbiamo concordato tipologia contrattuale diversa da quella che hanno bandito. Noi abbiamo solo ed esclusivamente parlato di contratto di apprendistato professionalizzante, in tutte le sede e in tutte le assise. E' scontro dunque tra i sindacati e la tua, anche perché alla base c'è la mancanza di intesa sulle assunzioni a minor costo. L'equivoco di fondo è che loro si sentono autorizzati a non retribuire questo secondo livello, sbagliando perché la disparità di trattamento è vietata dalla legge, ci sono delle sentenze, ci sono la legge 300, c'è anche un contratto nazionale che prevede per i contratti a tempo determinato il pagamento delle retribuzioni accessorie. Ora chiaramente qui loro vorrebbero che non gli firmassimo un documento dove dicono che quelli che assumeranno, che hanno più di 30 anni, non gli sia pagato il secondo livello così come fanno con gli interinari. Altrimenti chiaramente si tengono gli interinari, ma da un'azienda pubblica tutto ci si aspetta, meno che navighi sul limite della legalità. Siamo quasi allo sfruttamento delle persone. I sindacati chiedono un incontro con il presidente della regione Marco Marsilio perché si arrivi a riassumere tutte le 300 unità perse. Occupazione, chiediamo a Tua che ridia alla collettività abruzzese i 300 posti di lavoro erosi negli ultimi due anni, nel comparto ferro, nella divisione gomma e negli impianti manutentivi.